E ti capita spesso di fare questi sogni? Vedi, molte persone tendono ad affiancare i sogni a un significato o a un nome. Solitamente lo fanno le donne. Quello che posso dirti io è che credo che i tuoi sogni sinistri siano legati alla tua solitudine. Quindi puoi stare tranquillo, Ita, che nessun significato macabro ha a che fare con i tuoi sogni. Che sta succedendo a Andrea? Ho un'amica che frequenta delle lezioni di ipnosi da uno spiritualista. Questo tipo di ipnosi richiederà molta concentrazione. Bene, cominciamo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti